Buongiorno a tutti, cominciamo con lievissimo ritardo, ma è dentro il quarto d'ora accademico diciamo così, oggi abbiamo ospiti Gianfranco Marrone e Tiziana Migliore che ci parleranno della competenza esperta, una semiotica dell'expertise, per cui hanno lavorato non solo per un volume che è da poco uscito, ma anche Gianfranco ha pubblicato anche nel 2015 un volume che ora non mi ricordo bene il nome, dilettante per professione, non avrai mai un suggerimento, dilettante per professione e oltre a numerosissimi altri libri, non hanno bisogno di molte presentazioni, è un tema assolutamente centrale nel periodo che stiamo vivendo, benché il volume sia stato concepito prima dello scoppio o durante, all'inizio dello scoppio di questa pandemia, effettivamente il problema della parere degli esperti, dico parere che è un sinonimo quasi di opinione degli esperti, è diventato assolutamente fondamentale da un lato per i governi decisori e dall'altro discutibile per tutti gli altri, diciamo così, e quindi capirci di più su come funziona questo tipo di competenza è assolutamente essenziale. Quindi benvenuti, non so come si siete organizzati per parlare, non so se Claudio vuole aggiungere qualcos'altro. L'organizzazione solo Gianfranco fa un'impervento, poi Tiziana reagisce. Perfetto, va bene. Ricordo solo una piccola cosa che mi interessa molto, quello che hai detto perfettamente, che Gianfranco identifica il ruolo del semiotico nel dilettante per professione e ha scritto questo libro dove ne dà molti esempi e molte argomentazioni. Quindi questo secondo me è molto interessante proprio nel momento in cui proviamo a pensare, a riflettere da un punto di vista semiotico sulla competenza esperta, che poi è anche una categoria centrale in fondo in semiotica, proprio non c'è persona migliore di Gianfranco che invece vede il ruolo del semiotico come quello di un dilettante per professione. Bene, allora a te la parola Gianfranco. Grazie. Salutiamo anche Stefano Iacobiello che è appena arrivato. Grazie dell'invito, scusate sto cercando ovviamente di mettere il powerpoint. Adesso dovreste vederlo, mi date una conferma? Vediamo, vediamo. Sì, non vedo più voi, ah eccoli qua. Ok, benissimo. Allora stavo ringraziando dell'invito, mi fa veramente molto piacere. Mi dispiace soltanto non essere lì in quella bellissima sala che vediamo nella locandina vuota, come immagino sia effettivamente in questo momento. Io non ho nessuna formula magica, per fortuna direi, sull'argomento. Appunto, come già stato ricordato, l'intervento di oggi prende spunto da questo volume che è uscito pochi mesi fa dalla casa editrice Meltemi e che non sono esattamente gli atti, ma comunque prende spunto da un convegno che abbiamo, un seminario che abbiamo tenuto a Urbino nel settembre del 19, cioè l'ultima volta che ci si è visti di presenza a Urbino, se non c'è nulla di profetico in questo, perché le questioni presenti che alla pandemia non ha fatto altro che mettere in primo piano ed accelerare, erano già tutte lì. Il libro contiene diversi saggi, quello di Paolo, Fabri, Pino Donghi che parla di un vecchio fondamentale problema riguardante la questione della malattia e in particolare del placebo. C'è un bellissimo saggio di Denis Bertrand sul semiologo come esperto, come esperto che viene chiamato in quanto esperto in una serie di consulenze varie, insomma un ruolo che molti semiologi hanno avuto e hanno tuttora. Un saggio di Dario Mangano sulla fotografia, su questo gioco di ruoli tra fotografo e macchina fotografica che ha, come tutti sappiamo, implementato già da tempo tantissime funzioni del fotografo, sono diventate meccaniche. Un saggio di Tiziana sulla competenza semiotica nelle arti e in particolare su Bansky come dilettante tra virgolette, già nel titolo. Un saggio di Stefano Iacoviello sul problema della competenza e dell'incompetenza in musica. Un saggio di Laria Ventura sul problema dell'expertise nel campo della dietetica e quindi in qualche modo della gestione della corporeità. Un saggio di Letizia Caronia invece su tutti i problemi legati alla legittimazione, alla delegittimazione nella scuola. Un saggio di Valentina Manchia sulla competenza esperta negli algoritmi e infine una chiusura mia sul dilettantismo. detto questo so che queste non sono occasioni per presentare libri, quindi smetto immediatamente e dirò alcune cose, ma vorrei cominciare da qualcosa che nel libro non c'è, e cioè sulla pagina, su alcune pagine della Repubblica del 12 marzo di quest'anno. Sarebbe bello analizzarle per esteso, ma ricordo solo, faccio notare soltanto alcuni punti. Allora, il 12 marzo viene fuori che ci sono alcuni sospetti per tre casi di morte in Sicilia su 215 mila dosi già somministrate. In prima pagina troviamo subito una indicazione di tipo passionale, la paura e lo stretto legame che c'è negli articoli successivi sia in prima pagina che nelle successive su questo legame tra questa paura, questa passione che sarebbe generata da questo sospetto e tutta una serie di voci e di credenze, di saperi che si intrecciano tra di loro. Questa è la seconda pagina. Gianfranco, prova a mettere a tutto schermo. E io credo che se mette a tutto schermo succede, mi si blocca tutto, provo, però eventualmente neanche mi si mette. Però non vedo più niente. Così lo vedete voi? Lo vedete meglio? No. È uguale? Sì. È identico. Lascia pure come è prima. E ora purtroppo ci devo tornare, perché il mio computer si impalla ogni volta che metto questa roba qui. Infatti si è impallato. Ah, Tiziana. Si è impallato completamente. Oh, ok, dai, ci siamo riusciti. Adesso se lo rivedete? Sì, vediamo. Vediamo sempre la stessa pagina. Vediamo sempre uguale. Forse se faccio così... Benissimo. È io, è io. Perfetto, perfetto. Il PM che indaga Siracusa va a vaccinarsi, dicendo io mi fido. Il testo sarebbe da analizzare, come stavo dicendo prima, nella sua complessità, cosa che non potrò fare ovviamente più di tanto. Ricordo soltanto alcuni punti. Abbiamo appunto c'è una partita di vaccino AstraZeneca sotto inchiesta in Italia. Si tratta dell'otto contrassegnato alla sigla A, B, B, 2, 8, 5, 6, con 250.000 dosi distribuite in tutto il paese, 215.000 già somministrate, tre casi di questo evento fatale. Sono però segnalati dall'Agenzia Nazionale del Farmaco dopo la somministrazione. Tutto il problema sta esattamente, ma questo lo sappiamo perché sappiamo come è andata avanti la questione, dopo, in questo dopo, in questa correlazione che dovrebbe esserci tra la puntura e il decesso. Il testo è di un certo interesse, però vi faccio notare soltanto alcuni punti. Guardate qui, è un fatto però che, viene ripetuto qui, è altrettanto un fatto che, è un fatto che, è un fatto che i tre eventi avversi fatali siano emersi su soggetti che avevano ricevuto dosi di quella partita, AstraZeneca, a fronte di 215.000 dosi somministrate, ed è altrettanto un fatto su cui concordano tutti gli studi scientifici, il Ministero della Salute e l'AIFA lo hanno ribadito, anche il PM si dice fiducioso. AstraZeneca si dice assolutamente certa, annuncia tranquillizzazione e così via. Mi sembra già abbastanza evidente da questo primo articolo l'idea di porre qualcosa come fatto e di metterla in discussione, secondo un principio che ritroveremo, ma che già conosciamo molto bene, che è quello della predicazione concessiva. Molto più interessante è questa intervista a questo signore che si chiama Garatini, 92 anni, che sarebbe veramente da vedere per esteso, vi do soltanto alcune cose. La formazione di trombi è una delle conseguenze del Covid, siamo già tra virgolette all'inizio dell'articolo. Dovremmo controllare se le persone colpite non avessero contratto l'infezione in modo silente. Tutto questo lo dice qualcuno che è Silvio Garatini, un esperto, tant'è che è fondatore e presidente dell'Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano, autore di un libro, quindi ha due bellissime proprietà per essere esperto, quello di essere autore di un libro e di essere presidente dell'Istituto Farmacologico. immediatamente il cronista gli chiede cosa accadrà esattamente ora e lui risponde che si fermeranno le somministrazioni dell'otto sotto esame, bisogna fare degli ulteriori esami approfonditi e poi saremo in grado di capire meglio se c'è un legame eccetera eccetera. Insomma questo esperto in questione viene interrogato su qualsiasi argomento che è un farmacologo, autore di un libro eccetera eccetera, presidente dell'Istituto Farmacologico. Seconda domanda, dobbiamo preoccuparci? Quindi un'altra questione passionale e lui risponde immediatamente è giusto fare tutti i controlli ma credo che alla fine troveremo che i vaccini non sono collegati ai casi di trombosi. Continua la risposta e poi un certo dice ma poi si era capito che quel disturbo non dipendeva dal vaccino. Il cronista pone un problema di veridizione, non vi fu troppa trasparenza in quel caso e lui risponde ci vuole più trasparenza, altrimenti si genera sfiducia tra le persone. Ricordiamoci che questo signore è un farmacologo ma come vedete sta parlando di problemi di comunicazione. mi sarei aspettato un comunicato ufficiale dalle nostre autorità sanitarie. Quindi vedete che l'esperto interrogato dal giornalista pone dei problemi di comunicazione e pone, adesso lo vedremo, dei problemi di expertise in generale. Invece non ho sentito nulla del genere, nessuno spiega perché non si può fare sotto i 55 anni senza dire che nel frattempo erano usciti altri dati scientifici. Cosa deve pensare un cittadino? I messaggi in politichese non vengono capiti dalle persone. Ci vuole più chiarezza nella comunicazione da parte del Ministero della Salute e dei cosiddetti esperti. Cioè l'esperto mette in discussione la parola degli esperti. Lui è un esperto farmacologo ma come vedete sta intervenendo su questioni relative alla costruzione della comunicazione e sui dubbi che hanno a che fare con la scienza per definizione. Ed ecco che arriva una cosa molto carina per i semiologi. Che cosa bisognerebbe spiegare? Chiede il cronista. Ed ecco che il farmacologo risponde. È possibile che qualcuno muoia in concomitanza con il vaccino. Ma il fatto che un evento accada dopo un altro non vuole dire che tra i due ci sia un rapporto di causa ed effetto. Anzi, in genere non è così. Cioè in poche parole, in questo caso lo scienziato, il farmacologo, ci sta dando delle indicazioni di tipo narratologico. Ricordiamo tutti, l'abbiamo studiato da giovani, che il post hoc ergo propter hoc è una delle strategie narrative più diffuse. Lo diceva Orazio, come vi ricordate. Barth, nella sua introduzione all'analisi strutturale dei racconti, lo ripete in continuazione. Questo qui diventerà un tormentone nei giorni successivi. Vi ricordate, tutta Italia si mette a discutere del post hoc, ergo propter hoc. E lo fa a partire da questa intervista al farmacologo. Che continua a dire, cercare di capire se c'è un estueto di due avvenimenti o un'operazione complessa. A un certo punto, finalmente, il cronista gli chiede una cosa su quella che dovrebbe essere la sua specifica competenza farmacologica. Cosa potrebbe essere successo? E lui dà una risposta fantastica, che sarebbe piaciuta tanto a Bruno Latour. Risponde, non lo so. Tutto può essere. Sappiamo che nei trombi sono le conseguenze, eccetera, eccetera, ma è difficile pensare che, insomma, in poche parole, finisco la cosa e poi concludiamo. Lui dice, durante le sperimentazioni abbiamo già assistito a un errore di dosaggio. Può essere caduto di nuovo? La risposta è, non credo. E poi si fa un discorso relativo a un altro vaccino del 2014, dove si era verificato che non c'era nessun problema. Il titolo, ve lo ricordo, qui se non lo vedete, è giusto fermarsi ma senza perdere la fiducia. Allora, sono voluto partire direttamente da questo, perché, come avrete percepito subito, c'è il problema di che cosa, come e perché viene messo in gioco la parola di un esperto. Un esperto che ovviamente è esperto in un settore, uno specialista in farmacologia, che viene intervistato su problemi di politiche sanitarie, di comunicazione relativa, di narratologia, abbiamo detto, e quando invece gli viene chiesta qualcosa relativo alla propria competenza specifica, risponde molto semplicemente non lo so, tutto può essere. Vedete qui cosa potrebbe essere successo? Non lo so, tutto può essere. Nello stesso giornale, a pagina 19, apprendiamo che c'è un problema con la poetessa Amanda, perché non si trova un traduttore che abbia la competenza necessaria per tradurla. Amanda, lo ricorderete, è quella giovane poetessa che era intervenuta durante la cerimonia di insediamento di Biden. A quanto pare ha una casa editrice catalana, Univerdi e Barcelona, che fa parte del gruppo Encyclopedia, ha tolto l'incarico a uno scrittore, questo lo trovate meglio forse qui, profilo inadatto, Victor Robius, 60 anni, e vedete subito vengono date delle indicazioni di competenza. Poeta e musicista catalano, è stato scaricato dalla casa editrice, cheppure lo aveva incaricato di tradurre The Hill We Climb. Il brano composto da Amanda Gorman, la più giovane poetessa laureata del paese, 23 anni, scritta in occasione dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, è pieno di riferimenti all'attacco di Capitol Hill. Perché le viene tolto l'incarico? Ve lo ricorderete. Perché questo signore non ha le caratteristiche necessarie, cioè non è una donna, non è giovane, non è un attivista e soprattutto non è nero. Lo scrittore, ricorda il giornale, aveva tradotto in catalano Shakespeare e anche Oscar Wilde, e anche degli autori americani. Però lui dice, in un certo punto viene chiamato in causa, ma se non posso tradurre una poetessa perché donna, giovane, afroamericana, nel mio medesimo secolo, non posso neanche tradurre Omero, giacché non sono un greco dell'ottavo secolo avanti Cristo, e nemmeno Shakespeare, non essendo un inglese del sedicesimo secolo. Stessa cosa, a quanto pare, era accaduto ad una scrittrice, mi pare, olandese, sì, olandese, la quale si era da sola tirata indietro dall'incarico perché, nonostante fosse una donna, non aveva un'identità sessuale chiara, era bianca e non era attivista. Quindi vedete che a pagina 19 della Repubblica torna ancora la questione della competenza, una competenza strana in questo caso, legata al fatto che, non l'ho detto ma è abbastanza evidente, tutte queste cose sono nate, questo licenziamento dello scrittore catalano, e le dimissioni volontarie della scrittrice olandese per tradurre la poesia di Amanda, sono legate al fatto che non hanno alcune caratteristiche, non hanno competenze necessarie. Queste competenze sarebbero, queste questioni che abbiamo detto, cioè non ci sarebbe una identità necessaria per tradurre la poesia di Amanda. Però per fortuna in una pagina successiva a un certo punto si scopre che Cocchi Ponzoni, lo ricorderete tutti, ho presentato qui l'amico di Renato Pozzetto, compie 80 anni e viene immediatamente chiarito, lo dice lui stesso, sono un dilettante ma raffinato. Insomma, come abbiamo detto, abbiamo… ecco, vedete, ma perché sono così? Anche le ho ingrandite io? Ok. Queste sono alcune immagini di una campagna fatta qui in Sicilia per fidarsi della scienza, questi testimonial sono delle persone che hanno come competenza e che quindi diventano testimonial perché hanno un problema chiarissimo, hanno già fatto il vaccino, sono vaccinati, insieme vinceremo, fidati della scienza. Ci sono però tante questioni, tanti problemi legati alla fiducia, che come tutti sappiamo è tematica semiotica assolutamente centrale. C'è il problema di chi fidarsi, gli esperti siamo noi, si dice nella copertina di questo libro, non bisogna, non come la scienza corrotta, che minaccia il nostro futuro. Dopo aver letto questo libro non sono più riuscito a prestare ascolta da un esperto senza scetticismo. Eccolo il problema, vecchio, vecchissimo problema storico-filosofico, quello dello scetticismo, che è uno dei tormentoni del discorso sociale, soprattutto nei social appunto, ma non soltanto. Allora, la questione, come ho già citato Bruno Latour, che tutti conosciamo, ma sappiamo che Bruno Latour ha lavorato soprattutto su questa relazione tra scienza e politica, continua a farlo del resto. Sappiamo che Latour ha preso tantissimo dalla semiotica, oltre che dalla etnometodologia, è stato quello che ci ha invitato a prestare attenzione a questa relazione tra politica e scienza, attraverso appunto l'intermediazione degli esperti. Ricorderete che Biden, sempre lui, il primo gesto che ha fatto non dopo essersi insediato, ma dopo essere stato letto, che vi ricordate non era un po' di confusione, la prima cosa che ha fatto, la prima dichiarazione pubblica che ha fatto, è quella di dire, costituirò un tavolo di esperti per aiutare il paese a uscire fuori dalla pandemia. Esprimeva dunque una grande fiducia nella scienza, perché ovviamente era un gesto strategico che andava contro il suo predecessore, il quale invece era scettico, e si era sempre andato contro gli esperti in nome della politica. Moltiplichiamo i casi. Questo lo ricorderete, è uscito un paio d'anni fa, se mi pare proprio nella primavera del 19, ed era il famoso manifesto in difesa dello studio della storia, che ha circolato in Italia parecchio nel momento in cui il Ministero aveva deciso di ridurre, se non mi sbaglio, il numero di ore di storia negli insegnamenti scolastici. Fior di storici, esperti, espertissimi in storia, hanno scritto questa cosa di cui vi faccio, vi do semplicemente due frammenti. Vedete gli storici, sono diffusi in molte società contemporanee i sentimenti di rifiuto e di diffidenza nei confronti degli esperti, a qualunque settore appartengano, la medicina come l'astronomia, l'economia come la storia. La comunicazione semplificata tipica dai social media fa nascere la figura del controesperto che rappresenta una presunta opinione del popolo, una sorta di sapienza mistica che attinge a giacimenti di verità che i professori, i maestri e i competenti occulterebbero per proteggere interessi e privilegi. I pericoli sono sotto gli occhi di tutti, si negano fatti ampiamente documentati, si costituiscono, si costruiscono fantasiose contro storie, si resuscitano ideologie funeste in nome della deideologizzazione, ciò nonostante queste stesse distorsioni celano un bisogno di storia e nascono anche da sensibilità autentiche, curiosità, desideri di esplorazione che non trovano a pagamento altrove. È necessario quindi rafforzare l'impegno. Capite benissimo la argomentazione. Innanzitutto, ancora una volta, gli storici, gli esperti di storia, intervengono su qualcosa che non ha a che fare in senso stretto con la loro competenza. Stanno parlando di un problema diverso, di un problema appunto di tipo comunicativo, semiotico, se preferite, in cui c'è, come tutti sappiamo, avrete notato che sto parlando di tutto tranne che della politica italiana, perché è il trionfo della messa in discussione dell'expertise. Chi ha visto l'ultima puntata di Fabio Fazio di domenica scorsa, vi ricorderete, c'era Colao, ministro che ha qualcosa a che fare con la tecnologia. Colao, espertissimo in tutto, tranne che in politica, era diventato ministro e è diventato ministro proprio per questo, l'hanno messo lì, era un brevissimo amministratore di un sacco di grandissime aziende mondiali, l'hanno fatto ministro, Fazio gli chiedeva in continuazione cosa farete, cosa farete, come migliorerà il mondo grazie a voi e lui risponde per quanto riguarda le macchine siamo a posta, abbiamo investito un sacco di soldi, l'unico problema che abbiamo è quello della competenza, dice il ministro. Non ci sono persone abbastanza competenti in giro per gestire questa informatizzazione della società e Fazio gli chiedeva e gli risponde che bello, finalmente qualcuno che ritorna a parlare di competenza, non è stata di molto di moda negli ultimi tempi. Torniamo a noi, lo storico si preoccupa del problema dei social, decide che i social sono il diavolo, quindi una posizione apocalittica per definizione, è colpa dei social se nasce questa figura del contrasperto, vi ricordate che l'esperto di prima, il farmacologo, ce l'aveva con i cosiddetti esperti, quindi come dice Fabri nell'articolo che c'è appunto in questo libro, uno dei problemi fondamentali della competenza e dell'expertise è la messa in discussione della competenza dell'altro, quindi sono gli esperti che in qualche modo instaurano una sorta di guerriglia tra loro. L'argomentazione qui è divertente perché loro dicono la gente non vuole gli esperti, nasce la figura dei controi esperti che ha questa sapienza mistica, tutto questo testimonia il fatto che c'è bisogno di esperti. Cioè loro parlano male degli esperti, quindi questo significa che c'è bisogno di esperti. Ciò nonostante, l'ho messo in rosso perché avrete capito dove voglio arrivare, mi sembra di notare che la maggior parte di queste questioni girino intorno a una procedura argomentativa su cui la semiotica negli ultimi tempi si sta parecchio concentrando che è appunto non l'inferenza logica su cui tanto si è lavorato in semiotica stesso, se allora, ma la predicazione concessiva. Tuttavia, nonostante, eccetera, questo è un brano che ho preso da un libro recente uscito nella primissima pagina in cui si parla anche lì di questi problemi legati alla competenza, ho sottolineato tutte le predicazioni concessive che sono presenti. È un libro che riassume, è di pochi mesi fa, ma insomma, è quindi già in qualche modo invecchiato, ma riassume le problematiche e lui faceva notare questo signore quanto il dibattito intorno alla pandemia è sostanzialmente un dibattito che gioca solo e soltanto sulle predicazioni concessive. Mi pare che è stato Bertrand dopo Claude Ziberberghi due, che io sappia, studiosi che più si sono occupati dell'argomento, Ziberberghi in generale nella sua semiotica tensiva, Denis Bertrand lo ha applicato molto proprio nel campo della politica, facendo notare come e Fabri in qualche modo l'ha utilizzato pure, facendo notare appunto come uno dei perni fondamentali della teoria semiotica tradizionale, che è quello dell'inferenza logica, dovrebbe quantomeno essere accompagnato da una forma semiotica stavo per dire opposta, comunque sicuramente diversa, che è questa della predicazione concessiva. è stato già detto giustamente come oggi ci sia questo problema, quindi da un lato una continua ricerca di competenze, si ricerca l'esperto in tutti i campi, quello sanitario, ma anche quello dell'esperienza pubblica e privata, insomma, dovunque c'è sempre questo ricorso, questo bisogno di ricorrere all'esperto. Dall'altro lato viene una continua messa in discussione di questo esperto sulla base di un sospetto di chissà che cosa c'è dietro, quindi il classico complottismo, quindi c'è questo legame molto stretto tra critica all'expertise e complottismo. Le relazioni in gioco in realtà sarebbero ben quantomeno due, da un lato un'opposizione tra la fiducia e lo scetticismo, tra l'esperto e il contresperto, tra il discorso scientifico e il discorso dei social e dall'altro lato ci sarebbe invece un problema di complementarità continuamente anch'essa messa in discussione tra esperti e decisori scienziati e politici. Ricordate che Latour nel libro del 99 Politiche della Natura commentando un caso allora attuale quello della cosiddetta mucca pazza la Vashfall Crazy Cow ricordava quello che era successo quando Chirac chiese al capo della commissione di esperti europea che era stata messa lì per cercare di capire cosa stesse succedendo a un certo punto Chirac gli chiede insomma professore un tale si chiamava Dominique Ducard Dacar qualcosa del genere professore ci dica che sta succedendo cosa sta succedendo si tratta veramente di quella c'era una proteina che sembrava essere responsabile e questo signore risponde molto semplicemente non è un problema mio è un problema suo è lei che deve decidere se la relazione di causa ed effetto tra la proteina e la malattia perché decidendo di quella relazione sta prendendo una decisione che non è scientifica sta instaurando una relazione tra due fatti eventuali la cui relazione è una decisione politica nel senso che c'è si porta dietro una tale quantità di conseguenze di tipo economico di tipo culturale di tipo gastronomico di tipo turistico e anche ovviamente di tipo animalista che sicuramente non potremmo decidere noi Chirac un po' se la prende ma poi alla fine è costretto per il famoso principio di precauzione quello per cui il politico deve decidere anche se non ha tutte le carte in mano per poterlo fare dovrà prendere le sue decisioni è un po' quello esattamente quello che sta succedendo in questi mesi in questi anni questo problema della precauzione i politici che continuano a chiedere agli esperti lumi per poter prendere delle decisioni gli esperti ne abbiamo visto uno poc'anzi che continuano a rimandare ai politici e a criticarli per la loro comunicazione la funzione dell'esperto la conosciamo benissimo per noi è abbastanza banale se i media in qualche modo rappresentano la figura dell'esperto come di qualcuno che debba risolvere problemi quando penso a risolvere problemi viene sempre in mente quella famosa scena di pulp fiction tale che entra per risolvere problemi un po' diversi e il fatto che ovviamente l'esperto ha per noi una come dire un'autorità veridittiva il problema è che essendo cene troppi essendo il contrasto tra loro appunto vengono fuori tanti problemi per dirle in termini un po' più semiotici che troveremo tra un po' la moltiplicazione degli informatori e da un lato è la moltiplicazione degli osservatori dall'altro crea un regime epistemico che Fontanigli in un quadrato che conoscerete tra un po' vi farò vedere chiamava derealizzazione ed è esattamente il punto in cui ci troviamo allora cosa può fare la semiotica su questo quello che mi pare di notare da una prima esplorazione su questo campo così complesso su cui tra l'altro abbiamo chiesto anche abbiamo fatto anche un progetto di ricerca quindi si spera che per scaramanzia non ne parliamo ma si spera che sia uno dei temi di questo progetto che verrà realizzato ovviamente la prima e forse la primissima cosa che deve fare la semiotica è quella di cercare di articolare un po' meglio questa problematica distinguendo una serie di figure in gioco con una minima articolazione ulteriore quindi non ci sarebbero soltanto gli esperti e i non esperti o gli esperti e i controesperti potremmo distinguere tra i sono figure ovviamente ideal tipi quindi figure astratte il competente che il possessore di un potere e di un saper fare quindi l'esperto è come possessore di un sapere non so perché c'è questa negazione distinguiremmo il competente dallo specialista il competente è appunto l'esperto il possessore di un potere di un saper fare e quindi un esperto come possessore di un sapere lo specialista invece è il possessore di un solo sapere di un solo sapere che sarebbe al di sopra dei media e che per questo viene intervistato come il farmacologo di prima lui sarà il più bravo farmatologo del mondo probabilmente presidente autore di libri e quant'altro cosa che i media considerano molto importante ma adesso lo vedremo finisce per diventare un ignorante istruito ora ci arriviamo cioè il problema è distinguere tra la competenza dell'esperto da quella dello specialista lo specialista tra l'altro chi sta in università sa benissimo quanti problemi questa differenza pone è possessore di un solo sapere opposto al competente c'è ovviamente l'incompetente quindi una figura che nega la prima per negazione appunto non possessore di potere e di sapere il non esperto eccetera dall'incompetente distingueremo il dilettante il dilettante non è per definizione un non specialista uno che non sa una cosa ma ne sa tante ma di nessuno è specialista passa quindi da un sapere all'altro traduce tra saperi e linguaggi e per questo come mi ricordava e lo ringrazio come ricordava Claudio prima mi sembra una figura abbastanza vicino a quello che all'immagine del semiologo per come potremmo intenderlo riprendendo sempre le parole di Fabri che suoltre riprendeva Deleuze quando parlava del semiologo come di un intercessore di qualcuno appunto che traghetta traduce da dilettante probabilmente ma in qualche modo costruendo delle forme di dialogo e di relativa traduzione di relativa comprensione altra figura ancora che si collega a quella dello specialista è lì quello che un filosofo che tutti conosciamo cioè Ortega Ortega e Gassette nel famoso libro sulla ribellione delle masse chiamava l'ignorante istruito è uno che è specialista su una cosa ma è incompetente su tutto il resto però ne parla lo stesso in forza del suo specialismo Ortega già allora diceva è il caso tipico del premio Nobel che viene che è il Nobel appena il Nobel appena prendiamo un Nobel appena qualcuno prende un Nobel immediatamente viene considerato specialista di qualsiasi cosa non essendolo assolutamente ma i media cominciano immediatamente a intervistarlo su qualsiasi argomento magari uno ha preso il Nobel perché ha scoperto chissà quale nuova particella subatomica e invece qualcuno gli chiede spiegazioni sull'economia gli chiede cosa ne pensa della musica o del cinema oggi e quant'altro è esattamente quello che abbiamo visto all'inizio con il signor farmacologo che si prende non è lui che si prendeva la parola ma gli veniva data la parola su argomenti che non lo competevano dalla narratologia alla comunicazione e lo faceva anche in funzione di una sua critica ai cosiddetti esperti quindi ovviamente viene fuori una articolazione del genere quindi una dimensione positiva e euforica che è quella del competente e del dilettante una dimensione negativa disforica e quella dello specialista e dell'incompetente e questa specie di termine neutro che mette insieme lo specialista e l'incompetente che per ritornare per usare le parole di Ortega chiamiamo ignorante istruito allora lì io anche perché sto utilizzando un powerpoint che ho usato a lezione vorrei ricordare solo alcuni punti che per noi sono come dire di base per quanto riguarda la semiotica e in particolare il concetto di competenza in semiotica sappiamo che Grimas lo riprende da Chomsky cambiandolo completamente però di senso se per Chomsky la competence è molto semplicemente il sapere linguistico astratto che viene come dire che deve essere presupposto la performance linguistica questo sta nel dizionario Grimas dice la competenza linguistica non è una cosa in sé ma un caso particolare di un fenomeno assai più ampio che sotto la denominazione generica di competenza fa parte della problematica dell'azione umana e fonda il soggetto come a tante qualunque sia il campo in cui si esercita sappiamo tutti scusate la banalità che Grimas si pone la competenza in termini narrativi all'interno dei programmi d'uso si parla del problema degli oggetti modali quindi vado velocissimo reinterpreta il problema della competenza in termini di modalità da bravo linguista distingue tre forme di modalità anche il fare lui lo considera in qualche modo una modalità realizzante perché lui parla di fare come fare essere e quindi nel famoso schema del racconto qui lo trovate segnato in rosso troviamo competenze dovunque troviamo modalità sparse quindi abbiamo da un lato la competenza nel senso classico della prova qualificante propiana quindi l'acquisizione della competenza che però è acquisizione di una specifica competenza quella relativa al potere e al sapere che viene a cui bisogna presupporre un altro momento che è quello della manipolazione dove c'è altre forme di modalità legate al dovere e al volere poi c'è il fare e poi torna alla fine tornano tutte quante allegramente insieme al momento della sanzione questo è sul principio d'uso dello schema narrativo magari lo lasciamo perdere dunque la semiotica restando un attimo qui chiariamo il punto Gremasso lo dice molto chiaramente la competenza non è una cosa non è un sapere è un processo è un processo di acquisizione che dura in tutti i momenti della narratività in qualche modo si focalizza su uno ma è presente dovunque dunque a quel punto parte la questione della storia lo studio della competenza molti hanno ricordato il famoso libro di Détienne e Vernant sulla metis greca questa è la definizione che danno i due della metis intuito sagacia previsione spigliatezza mentale finzione capacità di trarsi di impaccio vigile attenzione senso dell'opportunità abilità esperienza acquisita dopo tanti anni cioè la ripresa di Détienne e Vernant nel campo semiotico serve primo per porre il problema dell'enorme quantità di questioni che stanno all'interno di quella che noi per semplificare chiamiamo competenze intuito sagacia previsione vedete che sono questioni molto diverse tra loro mettere in gioco il ruolo fondamentale del camouflage agisce per travestimenti che producono un effetto di illusione e poi punto fondamentale che era implicito nella teoria e la narratività la questione della strategia cioè il raddoppiamento dello schema narrativo come tutti sappiamo pone un problema strategico fondamentale che è il luogo dove si declina la questione del sapere e del credere che abbiamo visto sempre il farmacologo non lo so però credo ma forse eccetera eccetera d'accordo? cioè tanto per essere ancora più espliciti e chiari per la semiotica ovviamente qualcuno dirà per la semiotica grimasiana ed è vero per quel tipo di semiotica là che alcuni di noi continuiamo a praticare il problema del sapere e del credere non sta all'interno di una questione referenzialista o rappresentativa non si pone il problema delle fake news se non in termini di strategie e di tattiche di controstrategie e di controtattiche d'accordo? cioè il problema del sapere e del credere lo so non lo so lo sai non lo sai che diritto hai di parlare ma non parlare tu fai parlare quell'altro quello si ha parlato ma non ha parlato bene e quant'altro non è un problema di sapere in sé è un problema narrativo cioè un problema di come abbiamo visto sempre quando ricordate il farmacologo che se la prendeva con i cosiddetti esperti è un problema di strategie reciproche tanto per ricordare sempre una cosa vintage tutti sanno che nel mot passant di gremas c'è un momento in cui il ufficiale il prussiano cattura i due amici li mette davanti un plotone di esecuzione e dice quella frase lì ma siccome siete tutti usciti siete usciti dagli avamposti avrete certamente una parola d'ordine datemi la parola d'ordine e vi faccio grazie non a caso ho preso un testo non io gremas ha preso un testo che ha a che fare con la guerra con il conflitto e con la strategia per parlarci di questioni relative alla narratività e al sapere vi ricordate che tutta la seconda parte del libro è dedicata al problema dell'interpretazione sarebbe bello un giorno riprendere queste tematiche dell'interpretazione anche dal punto di vista della semiotica strutturale che ha detto delle cose su questo gremas dice forse dovremmo distinguere tra un sapere tematico cioè per esempio che cos'è una guerra da un sapere narrativo cioè se c'è la fuoriuscita dagli avamposti ci sarà necessariamente il rientro quindi come dire un sapere sintagnatico narrativo da non confondere con un saper fare tematico cioè in quel preciso frangente bellico il prussiano ha un'idea dice ok ho un sapere tematico ho un sapere narrativo li metto in pratica un sapere tematico non saper fare tematico mi faccio dare la parola d'ordine che porta a un saper fare narrativo cioè appena ho la parola d'ordine mi metto al loro posto entro a Parigi e finalmente la conquisto questo è il quadrato che ricordavamo prima di Fontanini che sta nel Sauer Partagé forse il suo che mi se non mi sbaglio è il suo primo libro credo che sia forse uno dei suoi libri meno letti in cui tra le varie cose Fontanini propone questo schema che è quello che dicevamo prima dove pone un problema in termini se volete un po' quantitativi e anche intensivi forte debole ma anche unico multiplo e sulla come dire sulla seconda generazione del quadrato trova questi quattro termini realismo integrale soggettivo oggettivo e derealizzazione dopo ricorderete tutti sappiamo benissimo il sapere dunque un effetto di senso di strategie enunciative la cosa va avanti in semiotica come tutti sappiamo perché a un certo punto questa benedetta competenza si spalma su quattro dimensioni diverse del senso la competenza pragmatica quella appunto di cui abbiamo parlato la competenza cognitiva che è strettamente collegata all'interno di strategie una competenza passionale ricorderete che nel percorso passionale canonico c'è un punto preciso che mi pare si chiama la disposizione che è la competenza passionale di cui parlano Grimas e Fontanini è una competenza estesica che è venuta anch'essa fuori a partire dal problema della percezione e dell'estesia questo stava collegato con la questione della strategia prima e la lasciamo perdere ultimo punto è un testo di Fabry che poi mi pare è stato raccolto in elogio di Babele dove Fabry riprende Dreyfus e Dreyfus ricorderete che Dreyfus o Dreyfus perché è americano se non mi sbaglio è un filosofo ermeneutico che negli anni 80 prende di petto la questione dell'intelligenza artificiale c'è un libro che si chiama What Computers Can't Do cosa i computer non possono fare cioè non hanno la competenza per farlo e questo libro invece è scritto con credo sia la moglie o la sorella o il fratello non me lo ricordo si chiama Mind Over Machine stiamo traducendo per una collana di Urbino questo articolo che viene ripreso da Fabry che poi è un problema di gradualità di competenze l'esempio è legato alla relativa acquisizione di progressiva acquisizione di competenza nell'uso del computer siamo negli anni 80 quindi è evidente che il tasso per i Fabri mi pare sia del 91 del 90 del 91 forse addirittura ancora un po' prima perché fu fatto da un convegno AIS di Siena organizzato da Calabrese in cui Fabri riprendendo Dreyfus distingue tra il debuttante il debuttante è uno che ha imparato tutte le regole e le applica a menadito dice giustamente Fabri è il famoso Chomsky sostanzialmente uno che pensa che le regole possono valere a prescindere dai contesti sapete le grandi critiche fatte dagli etnolinguisti dai sociolinguisti a Chomsky erano relative soprattutto su questo punto del fatto che lui considerava la competence linguistica assolutamente esistente a prescindere da qualsiasi forma di contesto io prendo un libro devo imparare a usare il computer prendo il manuale delle istruzioni imparo a memoria le istruzioni e provo ad applicarle a un certo punto però per imparare veramente devo lasciare perdere le regole e uso invece alcuni casi esemplari quanto meno uso Word imparo quello e poi mi faccio una base una competenza su quello e poi vado magari avanti il competente è uno che invece anche se non ha capito bene getta via il libretto delle istruzioni accende la macchina e la usa così un po' come capita come fanno i ragazzini i ragazzini nessuna idea funziona una qualsiasi tecnologia la usano lo stesso magari la distruggono però sicuramente sono molto più avanti di chi invece ha il problema di apprendere prima le regole allora il tipo qualificato è uno che dopo aver usato la macchina per vedere come risponde riprende le regole però soltanto quelle che gli interessano e quindi sa già cosa cercare nel libretto delle istruzioni sostanzialmente e infine c'è l'esperto l'esperto è qualcuno che sa tutto quello che c'è da sapere ma ha dimenticato quello che ha imparato per arrivare fin là se voi chiedete all'esperto mi insegna a usare il computer l'esperto vi guarda e dice usalo dice ma che regole usi e lui risponde non lo so le uso è come la vecchia nonna a cui chiediamo come si fa a preparare la crostata la nonna dice impasta dice ma cosa come impasto cosa devo fare per impastare come si fa l'esperto non lo sa più lo ha imparato e lo ha dimenticato tutto questo per semplicemente per proporvi una idea di processualità e di gradualità nella idea greimasiana dell'acquisizione di competenze d'accordo quindi vi ho ricordato abbiamo ricordato insieme alcuni dei modelli fondamentali della semiotica cosiddetta standard per come dire mettere in discussione e cercare di articolare in maniera un po' più fine le questioni legate all'expertise allora io in questo momento mi fermerei passerei la parola a Tiziana se è d'accordo e poi se rimane tempo vorrei tornare sulla questione del dilettante se il presidente mi dà questa possibilità o il direttore certamente certamente allora Tiziana grazie grazie Gianfranco facciamo competenze esperta 2 a questo punto perché tu con il tuo corso hai talmente approfondito gli argomenti che avevamo provato ad accennare nel libro che servirà a fare una seconda puntata allora io vorrei tornare su alcuni aspetti che hai trattato e che secondo me diciamo appunto portano avanti sviluppano la questione della competenza anche al di là della nostra raccolta allora uno il fatto che la cosa che dicevi all'inizio di questa insistenza sul fatto cioè l'informazione nei media viene asserita e presentata in partenza come fatto incontrovertibile il che dal nostro punto di vista è un errore metodologico sarebbe un errore metodologico ma come sappiamo è legato a una retorica dell'esplicitazione del sensazionalismo di cui i media non sanno fare a meno due la questione del farmacologo cioè che mette bene in risalto quanto la questione della competenza sia unicamente intersoggettiva cioè non c'è uno che si mette alla prova ma il competente è uno che è continuamente messo alla prova cioè è qualcuno che è vessato che è continuamente interrogato e che quindi è costituito come competente oppure anche come ignorante istruito o dai media oppure da altri competenti che hanno tutto l'interesse di far valere la competizione piuttosto che la competenza allora qui c'è un discorso molto appassionante dal punto di vista etimologico da fare sulla ecco analogia diciamo semantica fra competizione e competenza come hai ben mostrato c'è una battaglia semiologico che riguarda proprio la il dibattito fra i competenti e che tutto è legato a una questione di competizione cioè far vedere chi è più bravo più competente e in questo senso anche gareggiare a creare dei comparativi di maggioranza più che dei superlativi e di qui poi il fatto che il competente il farmacologo viene vessato di qui necessariamente indotto a usare la predicazione concessiva come tattica obbligatoria per un eccesso di comunicazione cioè perché gli si chiede continuamente cosa pensa cosa fare la predicazione concessiva è una sorta di giustamente tattica quindi a che fare con la questione delle tattiche delle strategie che però ha bisogno non essendoci certezza da nessuna parte di ricorrere ai tuttavia ai ma ai sebbene poi questa cosa interessante che dicevi che mi piace molto che nel caso che hai portato del profilo inadatto della traduttrice perché bianca è non attivista fa mette in evidenza quanto la competenza sia inficiata di stereotipi culturali e di ideologie c'è qui un razzismo alla rovescia che interviene addirittura nel giudicare la competenza e da questo punto di vista allora forse sarebbe il caso di chiedersi dato che non ci sono delle condizioni per cui noi sappiamo qual è lo statuto del competente tornare su Goodman come facciamo di solito anche per altri casi e chiederci quando è espertisa e se l'identità per esempio la questione dell'identità o dei comportamenti abbia o no a che fare con l'espertisa un'altra cosa che avevo notato è la questione dei conflitti di interesse giustamente che ci sono in gioco nella competenza quando si devono prendere decisioni intervengono effettivamente degli interessi che sono estranei alla competenza che hanno a che fare come al solito con l'economia però appunto diciamo a margine adesso dell'esperienza covid si capisce che anche nel caso dell'espertisa almeno per noi semiologi l'ipotesi dovrebbe cominciare come voleva grey mass a lettura ultimata cioè è solo raccogliendo un corpus di testi di tipo assertivo costativo o performativo osservando la coerenza dei discorsi l'esaustività la semplicità che arriviamo a dire quando c'è espertisa e la crisi dell'autorevolezza purtroppo e dell'autorità dell'autore non deve portarci a buttare via con l'acqua sporca la possibilità di considerare che esperto è una designazione che diamo sulla base di una serie di prove propiane di competenza e di competitività cioè l'esperto è una figura di deriva non è non è che arriva l'esperto che nasce in partenza diciamo come si dice artisti si diventa competenti si diventa cioè attraverso una serie di prove per cui addirittura quella che si chiama nella logica propiana prova qualificante secondo me dovrebbe essere sostituita dicendo una messa alla prova qualificante c'è qualcun altro che ti mette alla prova per vedere come quanto sei competente rispetto a delle dimostrazioni non al fatto che tu sai fare qualcosa ma delle dimostrazioni di saper fare e di saper essere quindi devi dimostrare concretamente con i fatti quando sei competente tra l'altro si ragionava con Gianfranco in una lezione al suo corso su tre punti fondamentali della competenza che mi piace adesso portare anche a vostra attenzione dunque appunto uno questo fatto che il competente non è uno che si mette alla prova da sé cioè un individuo in solitaria ma è messo alla prova dall'altro già tra l'altro nelle 31 funzioni di prop questa cosa si vede molto bene cioè l'eroe che abbandona il suo luogo di origine per mettersi alla prova non è che si mette alla prova è vessato interrogato da altri che lo tentano lo stacolano lo danneggiano gli tendono dei tranelli lo interrogano lo denunciano cioè ci vogliono dei conniventi antagonisti per diventare competenti altrimenti questa funzione non la si raggiunge e questo ruolo appunto non lo si occupa il competente è qualcuno che si rialza ed esiste è un competitor temprato perché vessato dall'altro un'altra questione interessante parlavamo di dilettanti allora c'è un tratto invariante che lega l'esperto e il dilettante per cui diciamo la posizione di contrarietà fra dilettante e competente verrebbe secondo me accadere se per esperto diciamo si intende qualcuno che ha fatto gavetta abbiamo visto il percorso i gradi di Dreyfus e Dreyfus i vari step per diventare competenti e quindi giunto a livello massimo e per dilettante invece si intende un competente fuori dagli schemi irregolare che non segue il percorso per gradi non ha il movente del dovere della necessità l'indisciplinato insomma che non ha fatto l'accademia non è andato a bottega e questo tratto in comune però fra l'esperto e il dilettante e la passione cioè il gusto il diletto nel fare qualcosa e dilettante in spagnolo si dice afficionato e ora attenzione la crisi dell'espertise oggi è forse legata al fatto che il cosiddetto specialista pensiamo per esempio in medicina quando andiamo in visita ad alluminare te lo ritrovi sempre freddo meccanico distaccato burocratico ti mette sempre sotto gli occhi il foglio da firmare sul consenso dei rischi che ci sono legati alla patologia cioè il competente lo riconosciamo a differenza dello specialista è invece in accordo con il direttante perché invece è uno che ha passione faccio una piccola parentesi biografica ho subito un intervento non da poco in ospedale una settimana fa e ho riconosciuto il chirurgo che doveva operarmi questo ovviamente molto prima cioè l'ho scelto sulla base di due proprietà interdipendenti era ferrato in materia certamente sul pezzo per come interagiva e per come spiegava e lo faceva con passione come diciamo gli brillavano gli occhi mentre ne parlava cioè c'è un composto di enunciazione che lega che lega competente e direttante è il fatto di fare le cose con con passione avere il gusto per l'apprendimento che è un sintomo anche per la credenza cioè gli crediamo abbiamo fiducia nell'esperto perché riconosciamo non soltanto il fatto che lui sa che lui sappia e quindi il suo saper fare ma riconosciamo una passione in quello che fa chi ha seguito chi di voi ha seguito la serie tv su Leonardo sarà forse rimasto colpito dall'autodefinizione che dava di sé Leonardo di fronte a chi lo elogiava per il suo talento oltre che appunto la solita formula di essere homo senza littere diceva sono un semplice apprendista ma in quel definirsi apprendista c'è tutto c'è la curiosità per l'osservazione dal vivo per la ricerca e la scoperta ecco appunto uno dei sintomi se dovessimo diciamo parlare in termini gudmaniani dell'esperto e questo riconoscere un gusto per l'apprendimento cioè l'esperto è qualcuno che non si ferma che ha il gusto per continuare a imparare e tre la questione della stima sociale che riprendo da da Ricœur e dai percorsi del riconoscimento dal bellissimo saldo di Ricœur sui percorsi del riconoscimento cioè non solo nessuno si mette alla prova da solo ma neanche a forziori si autoriconosce da sé l'autocompiacimento anzi potrebbe essere un segnale di falsa espertisa non so se vi viene in mente qualcuno illustrato che si vede spesso in televisione negli ultimi tempi che va in giro sempre con le medaglie ecco queste forme di autocompiacimento probabilmente dovrebbero indurre a sospettare l'esperto non è uno che dichiara di saper fare o che diciamo fa una sorta di spettacolo sul suo passato ma è uno che dimostra di di saper fare la comunità lo riconosce e ha questo riconoscimento cognitivo si accompagna ciao Beppe o dovrebbe idealmente accompagnarlo la riconoscenza cioè e questa cosa me la faceva notare Gianfranco nella saggio di Ricker il riconoscimento sociale è legato al fatto di essere grati al fatto di ripagare con la stima l'esperto ecco poi ci sono appunto delle questioni io nel libro ho trattato della competenza in campo artistico ma vorrei in qualche modo adesso se ci sono delle domande poi magari ci torno dopo su questo punto sì possiamo 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 aprire la discussione poi non so se Gianfranco vorrebbe intervenire adesso forse sì fammi dire due cose adesso e poi sentiamo gli altri allora grazie Tiziana questi tre punti che hai messo in evidenza sono fondamentali sia perché aprono nuove riflessioni sia perché in realtà confermano diciamo così delle cose che già sapevamo che oggi con questa smania appunto come detto tu di gettare via la semiotica standard con l'acqua sporca spesso vengono dimenticate quindi forse a volte fare queste operazioni un po' vintage come quelle che abbiamo fatto possono essere molto spesso io ho l'impressione ma possiamo discutere che è chiaro che la ricerca deve avanzare questa è una banalità non c'è bisogno che lo dica io il problema è che su quali basi deve avanzare in semiotica spesso vedo questa esigenza di inventare nuove teorie ogni volta che si interviene come se quella del giorno precedente era un po' detto di fronte a Costantino che è uno studioso di storia della semiotica mi sembra veramente curioso allora sul discorso della competenza e della competizione è chiaro siamo d'accordo è chiaro che c'è un problema di prova di messa alla prova si pone il problema quindi di chi mette alla prova che non è una figura unica perché nella nella grammatica narrativa può mettere alla prova il destinante ma può mettere alla prova anche l'opponente che sono due figure abbastanza diversi oppure come abbiamo visto anche in quello che ho parlato a dire io prima c'è un problema di competenze che lottano tra loro a questo proposito dato che non vi parlerò del problema del dilettante in questo momento vorrevo ricordare soltanto che nel libro ho provato a porre la questione in termini in termini di resistenza cioè l'idea del dilettante è qualcuno che resiste a chi in qualche modo lo vuol far diventare specialista quindi è un po' quello che stai dicendo tu con questa questione della prova e della messa alla prova dilettante mi piacerebbe chissà se ci riuscirò a continuare a lavorarci ricordo soltanto che una figura appunto che ha una stima sociale per riprendere i tuoi termini abbastanza ondivaga è stata una figura positiva a lungo nel pensiero artistico ed estetico per diversi secoli esisteva tra l'altro con termine italiano che viene utilizzato anche nell'estetica inglese nell'estetica francese in Inghilteria esisteva una society of dilettanti negli anni nel settecento che poi erano i viaggiatori gli amatori è un tema che torna molto anche nella riflessione di Stefano sulla musica ovviamente il problema dell'amatore del tutta la questione legata al Kic per esempio tutta la grande polemica la grande riflessione sul Kic che ha investito tutto il novecento sostanzialmente da Walser dei primi del 904 del 905 fino a Arbasino che lo ha fatto in pochi anni fino a quando era ancora con noi è legata a questa questione del dilettantismo nell'arte nelle sue varie forme quindi mi sembra un tema che è opposto in termini di competenza e competizione allora invece ho qualche perplessità ma non perché non vada bene ma secondo me perché va un po' approfondita questa questione dell'appassionamento del competente e del dilettante mi piace molto l'idea che competente e dilettante per quanto opposti abbiano in realtà in comune il problema dell'appassionamento d'accordo ma questo non significa che lo specialista e l'incompetente siano non siano appassionati hanno altro tipo di passione quindi la passione secondo me ci sono delle forme di passione diversa uno di tipo come dire intensificato che ha una forte tensione una forte intensità nel caso del competente nel dilettante anche se nel dilettante può cambiare ovviamente è una detenzione nel caso dello specialista e dell'incompetente non parlerei dello specialista indifferente anche se quel medico che non ti ha operato fosse stato un indifferente avrebbe avuto anche lui le sue passioni motivo per cui tu non ti sei fatto operare dall'appassionato in un altro modo per quanto riguarda l'hai già detto i francesi sono più fortunati di noi con il problema del riconoscimento perché lo stesso termine significa due cose ha un valore cognitivo la reconnaissance sia il riconoscimento nel senso cognitivo riconosco in te eccetera sia una forma invece della reconnaissance nel senso della riconoscenza Ricœur come è noto gioca moltissimo con questo tipo di termine mi fa piacere non che tu sia stata operata ma che l'abbia ricordato che questa è un'ulteriore testimonianza che i semiologi sono sempre al lavoro persino quando sono in sala operatoria ok grazie è finito grazie io sì volevo dire un'ultima cosa sulla questione del dilettante cioè perché mentre parlavi secondo me il dilettante è fondamentale perché ci ricorda che comunque ci vuole passione anche quando c'è massimo di specializzazione cioè probabilmente nel momento in cui tu diventi specialista sei più portato a adottare un atteggiamento di tipo scientifico neutro anche nei confronti degli altri cosa che il dilettante cioè il dilettante continua ad avere gusto per le cose diletto e secondo me è questa figura che continua a ricordare agli altri gradi agli altri tipi di competenza che è un piacere poi diciamo più o meno intenso comunque necessario grazie Tiziana vedo una domanda già qui che vi giro immediatamente nella chat se expertise e proficiency siano sinonimi mi pare proprio di sì nel libro di Dreyfus sono considerati sinonimi ci sono usati come sinonimi ok quindi abbiamo già una risposta non so se ci sono altri anche vedo Stefano Giacoviello che ha contribuito anche lui ed è stato tirato in causa poco fa da Gianfranco sì anche perché il mio quadrato me l'ha rifatto in maniera completamente diversa quindi vorrei dire questo però se Stefano se vuoi intervenire ecco no no per niente in realtà era diciamo una cosa un po' curiosa che dipende dal fatto vabbè la competenza il riconoscimento della competenza ovviamente dipende da delle costrizioni anche dell'ordine del discorso e stavo pensando alla competenza che dà scandalo la competenza dell'altro che dà scandalo la competenza del dilettante presso le società di discorso in qualche modo può dare scandalo come la competenza del chiaroveggente che non può essere messa alla prova però è uno che sa che cosa succederà o anche la folle si dice quello che gli altri non potrebbero dire e quindi ciò che si può sapere e non si può sapere allora mentre parlavi di queste competenze da riconoscere mi è venuto in mente un episodio di qualche giorno fa anche un po' stupido però quando sono stanco accendo la television e faccio un giro sui canali locali quelli proprio più improbabili e capito un paio di giorni fa su un programma dove c'era il solito programma di cucina quindi sicuramente è una cosa che avrai incontrato tre volte comunque c'è la solita bellona insomma che è lì dentro la cucina di una trattoria dove c'è la vecchia che sa fare il tortello mugerano e a un certo punto deve fare il ripieno ovviamente la bellona non è capace a chiudere questi tortelli e così del genere ma quando deve fare il ripieno la signora prende in mano l'impasto di patate e così guarda la bellona e gli dice eh devi fare il pipì oh ma non ci ho sentito devi fare il pipì il pipì che appunto nel dialetto toscano è praticamente il membro maschile quindi lei praticamente costruisce questo questo fallo di patate in mano e lo fa vedere alla bellona dicendo devi fare il pipì per fare il ripieno e la bellona si rimane interdetta dice ma come e lei dice no no lo devi proprio prendere in mano e gli va vedere questa cosa no e gli dico era una competenza che fa stand allora veniva riconosciuta l'esperta della nonna che come ti spiega quando dicevi l'esperta anche l'esperta è la bellona però in questo caso esatto allora lei veniva la bellona che partiva da una situazione diciamo di riconoscimento comunque di competenza in quanto presentatrice connutrice della trasmissione almeno autoriconosciuta e riconosciuta da remittente dall'altra parte avevi invece l'esperta quella diciamo tradizionale la cui competenza è proprio spiegata e quindi interessava questa cosa dello scandalo del dilettante cioè la relazione fra diciamo delle società di discorso che sono quelle che stabiliscono la competenza diciamo la sanzionano in quanto competenza standard e quella del dilettante e le competenze di altri che possono essere anche le competenze degli indigeni sulla coltivazione di particolari specie di piante o nel modo di trattare tra virgolette la natura appunto e quelle invece che sono stabilite dalle costrizioni dell'ordine del discorso ora al di là il problema è lo scandalo dell'esempio scandaloso che hai fatto ti ricordi nella citazione degli storici tornava questa cosa quando gli storici dicendo questi incompetenti che vogliono prendere il nostro posto questi controesperti portano avanti l'idea di una sapienza mistica che è esattamente quello che dicevi tu quando parlavi di chiaroveggenza cioè l'idea di una mancanza di argomentazione che sarebbe legata all'incompetenza siamo aperti dunque si può intervenire sia prenotandosi sulla chat sia alzando la mano su Teams c'è una una pulsante fatto apposta per alzare la mano che si trova in alto di fianco al fumetto della chat e quindi si può ecco Anna Maria prego mi entra pure anche in video ecco sì volevo chiedere a Gianfranco una cosa che tra l'altro ha ricitato proprio adesso sono così riflessioni in libertà parlavi prima e l'hai appena rimensionata la categoria del controesperto tirata fuori da quegli storici appunto in quella in quella specie di manifesto che ricordo mi chiedevo se questo controesperto sia una figura che è contro quegli esperti cioè un controesperto perché narrativamente come dire sostiene una una competenza diversa una teoria diversa una posizione diversa o se è invece qualcuno che è proprio contro la categoria di esperto che quindi va a neutralizzare proprio la categoria di esperto e perché secondo me quando quella categoria veniva usata questa cosa era lasciata un po' aperta e permette entrambe le posizioni che però sono molto diverse perché secondo me nel linguaggio per cui negli usi ordinari che poi sono quelli che come dire che ci costituiscono l'esperto da una parte rimanda al sapere di un'esperienza cioè rimanda a esperienza e ovviamente vabbè la radice comune è evidente dall'altra invece rimanda ad expertise che appunto come sappiamo per tutte le nostre riflessioni sulla modalità sono due ambiti di competenzializzazione molto molto diversi allora in realtà la mia impressione ma io mi sono occupata di competenza e di esperti diciamo marginalmente rispetto alle altre mie riflessioni la mia impressione è che oggi come dire ci sia in realtà in molti si arroghino la posizione degli esperti cioè non è in discussione la validità della categoria di esperto ma si rimanda questa categoria alla valorizzazione di un'esperienza e quindi se è un'esperienza naturalmente tutti possiamo accedervi il cursus sonorum dell'expertise salta quindi volevo chiederti cosa pensi di questo e invece così un'impressione anche questa margine di quello che hai detto che mi veniva in mente adesso a proposito tu lo dicevi a proposito di Colau io che non ho ascoltato l'altro giorno da Fazio io pensavo a due giorni fa una lunga intervista del ministro Giovannini dalla Gruber dove insomma ogni due minuti lui diceva ma io questo non lo so su questo non mi posso pronunciare questo non è il mio campo ora comunque le domande che gli venivano fatte insomma riguardavano le logiche di questo governo insomma non erano domande campate per aria quindi era abbastanza sorprendente che lui continuasse a dire su questo non posso parlare questo non è il mio campo e continuasse a delimitare a restringere sempre di più questa sua area di persona esperta diventando sempre più specialista appunto facendo riferimento alla categoria che hai detto tu e quindi forse appunto gli esperti quelli che ancora noi con una come dire terminologia forse non più aggiornata continuiamo a pensare come esperti il governo degli esperti o i medici esperti in realtà esperti non sono ma sono degli specialisti che rivendicano con grande insistenza la delimitazione del loro specialismo perché questo ovviamente li salva cosa che invece non fa l'esperto di cui sopra che si riferisce all'esperienza che non vuole per niente limitarsi ma appunto vuole avere un campo di intervento e di plausibilità molto più ampio quindi abbiamo degli esperti specialisti sempre più arroccati in un piccolo campo invece degli esperti di esperienza che dilagano su tutto grazie Anna dunque la risposta più facile da dare sarebbe quella che si dà sempre agli studenti cioè dipende ovviamente che dipende cioè dal punto di vista se prendiamo il punto di vista del controesperto il controesperto ovviamente si sentirà di avere un'altra forma di expertise che potrebbe essere esattamente questa ma io ho la mia esperienza quella che hai detto tu se la mettiamo dal punto di vista dell'esperto come il farmacologo di prima ovviamente controesperto significa pseudoesperto che non c'è che non ne ha nessuno quindi dipende interessante forse che in questo caso il controesperto sia in un caso che nell'altro come diceva prima Tiziana è una figura molto caratterizzata dal punto di vista passionale molto più che di quello epistemico ovviamente a questo proposito vorrei ricordare sempre per fare semiotica vintage quel famoso annuncio Waterman analizzato da Jean-Marie Flosch nelle identità visive dove vi ricordate si oppone alla figura di un avvocato che è un tale che fa carriera si iscrive all'università si fa i suoi bravi quattro anni di giurisprudenza poi comincia le prime arlinghe e poi diventa un grandissimo avvocato internazionale dal gemello che invece è uno che dopo aver finito la scuola non si iscrive all'università va direttamente a salvare le balene diventa un ambientalista e poi diventa scienziato quindi sono tutti e due comuni di penna hanno tutti la Waterman ovviamente ma seguendo esattamente due forme di acquisizione di competenza completamente diversa uno legato al sapere istituzionale e l'altro legato all'esperienza questo per dire che forse queste cose che stiamo dicendo hanno una radice antica tant'è che se i pubblicitari l'hanno colta e l'hanno utilizzata per i loro scopi significa che è molto antica vorrei a questo apposito ricordare che questo è appunto un problema annoso se non antico sicuramente annoso che abbiamo tutti trovato tutti quelli che tra noi hanno insegnato e insegnano a scienze della comunicazione vi ricordate quando è nato a scienze della comunicazione tu anni sei ancora piccolo e se lo sei tuttora quindi figuriamoci quanto eri piccolo allora si pone il fiorfiore di giornalisti di pubblicità hanno detto ma che bisogno c'è di studiare all'università questo si impara sul campo si sta in redazione si sta in agenzia quindi smettetela cioè ci hanno attaccato in tutti i modi e noi dicevano no no bisogna studiare bisogna acquisire una competenza e qui diciamo certo ma stando in redazione eccetera quindi ce la siamo vista anche come dire passare addosso Claudio Paolucci direi io più che un intervento ho veramente soltanto una richiesta di approfondimento sia per Gianfranco che per Tiziano tutto quello che avete detto mi sembra diciamo perfettamente declinabile per un discorso generale sulla competenza esperta sulle varie figure eccetera di cui appunto per esempio il caso contemporaneo legato non so alle nuove tecnologie attuali a quello che abbiamo vissuto negli ultimi 25 anni è perfettamente in continuità o comunque potrebbe essere considerato un caso tra i tanti di una cosa più generale secondo voi in questi ultimi 25 anni invece la situazione tecnologica eccetera ha portato delle differenze di natura in qualche modo delle differenze qualitative oppure soltanto c'è stata un'amplificazione di alcune logiche legate a tutte le cose che avete detto che che possono essere ricondotte a un discorso generale per citare Gianfranco la similatica vintage perché la mia impressione è un po' questa che molto spesso quando si cambia la taglia di un fenomeno si cambia anche la struttura qualitativa di quel fenomeno pensa a Théophile Gautier e Baudelaire che fumavano oppio a Montmartre che è grande cosa di scicheria e pensa invece a 200 studenti che fumano oppio in Piazza Verde a Bologna è un fenomeno di cui hai cambiato la taglia ma cambiando la taglia hai cambiato anche in qualche modo hai prodotto una differenza di natura quindi mi interessava dove c'è questo quello che Hegel chiamava il salto qualitativo allora grazie è un po' quello che dunque secondo quello che mi viene di pensare così a caldo è la questione della tecnologia in generale potremmo porla in maniera stavo per dire laturiana ma Latur l'ha preso da noi quindi insomma non lo so in maniera semiotica in termini di delega di competenze molto semplicemente no? cioè il progresso chiamiamolo così della tecnologia fa sì che noi deleghiamo ad essa un'enorme quantità di cose che prima facevamo da noi quindi gli deleghiamo delle azioni ma delegandogli delle azioni per presupposizione gli deleghiamo anche una competenza a queste azioni stesse ovviamente nel libro appunto c'è il capitolo di Dario che parla esattamente di questo si pone il problema di che cosa significa essere competenti fotografi quando oramai in qualsiasi telefonino o una macchina fotografica un po' più sofisticata hanno all'interno un'enorme quantità di programmi che decidono come si mette a fuoco che cosa mettere a fuoco quindi nel momento in cui una macchina fotografica decide cosa mettere a fuoco per esempio ha già un'estetica implicita al suo interno non ha soltanto una competenza ha anche come dire subito una involontaria manipolazione per esempio moltissime macchine fotografica che mettono a fuoco i volti ma chi l'ha detto che voleva fotografare un volto allora lui mi costringe a fotografare i volti cioè si dà per scontato che i volti siano più interessanti in fotografia che non che ne so gli alberi d'accordo e io non c'ho niente da fare lo fa lui l'ha deciso lui quindi gli ho delegato a tal punto questo nel libro Dario lo spiega lo spiega abbastanza bene quindi nel momento in cui siamo tutti diventati bravissimi a fare fotografie in realtà non abbiamo fatto assolutamente niente nella migliore delle ipotesi abbiamo fatto un'inquadratura che infatti è l'ultima cosa che ci è rimasta forse da fare quando vogliamo fare una fotografia il resto fa tutto la macchina questo forse a sua volta è un luogo comune può essere messo in discussione si spostano i livelli di competenza allora a quel punto entra in gioco altre cose entra in gioco anche il marketing per cui inventano delle macchine fotografiche dove non c'è nessun programma anzi sono diventate macchine cioè sono diventate chic le macchine fotografiche antidiluviane proprio perché a quel punto gli ridai la competenza alle persone che prima era stata tolta insomma potrei rispondere anche in questo caso dipende dipende cioè sostanzialmente dai giochi strategici che si mettono in gioco è evidente però quello che dicevi tu cioè che come dire l'accumulo quantitativo di queste deleghe di competenze alla tecnologia porta ovviamente a una trasformazione qualitativa dei saperi come l'esempio che ho fatto dell'estetica fotografica implicita però certo è tema fondamentale no grazie sì sì anche secondo me c'è questo cambiamento qualitativo se pensiamo per esempio alla differenza che c'è nel rapporto fra la conoscenza enciclopedica in senso diciamo così tradizionale la conoscenza enciclopedica che passa attraverso wikipedia no allora wikipedia offre tantissime potenzialità protesi di di conoscenza poi però e quindi anche possibilità di connessione con altri tipi di sapere chissà se questo è un po' come come dice cioè alcune proprietà vengono magnificate altre invece probabilmente narcotizzate e depotenziate quindi dipende un po' secondo me anche dal dal librido umano non umano che si crea ogni volta però chiaramente c'è un cambiamento qualitativo in atto rispetto alla cosa che diceva Anna Maria secondo me è molto utile tornare sulla questione dell'apprendista cioè io sono rimango colpita da questa cosa Leonardo che ovviamente era tutto un altro modo di pensare una mentalità completamente diversa quella del 400 dove non c'erano i saperi stretti specialistici Leonardo però continua a dire io sono un semplice apprendista e questa questa volontà di apprendimento ecco allora mi chiedo c'è nello specialista oppure no cioè lo specialista è uno che si è così tanto concentrato sul suo campo sa di aver imparato tutto e si ferma oppure continua ad avere bisogno di cercare e di apprendere secondo me l'apprendimento è in questo senso cioè l'apprendista è forse l'antispecialista per eccellenza cioè uno che ha desiderio di apprendere e questo desiderio di apprendimento travalica i confini dei saperi stretti e quindi gli steccati fra i saperi c'è un bel in un bel libro di Byron Good quello che si occupa di sociologia narrazione della malattia della salute c'è un bel capitolo sulle scuole di medicina in cui lui aveva osservato narrare la malattia mi pare si chiama in questo libro in italiano e c'è questo capitolo sulle facoltà di medicina in cui lui era andato lì a fare un po' di etnografia e aveva notato come i ragazzi cambiassero il modo di guardare le rispettive fidanzate o fidanzati a secondo dell'anno di corso al primo anno c'era anche come dire guardavano certe parti del corpo quelle che tutti noi normali comuni mortali potremmo continuare a guardare in un fidanzato o una fidanzata a un certo punto cominciavano a cambiare e dicevano ma sai che strano cranio che ti ritrovi ma sai che spina dorsale questi qui iniziavano a cambiare i loro rapporti erotici sostanzialmente tra di loro a seconda dell'expertise medica anatomica fisiologica eccetera che acquisivano nel corso del tempo l'ho letto tanti anni fa ma forse bisognerebbe riprenderlo questo libro è molto divertente non so se ci sono altri interventi o domande o provocazioni ah qui c'è una domandona in chat vorrei fare una domanda dice Patrizio Pastore il percorso di apprendimento in senso semiotico che va dall'incompetente al competente può essere assimilato al percorso di apprendimento in senso che caratterizza la persona nel processo di lifelong learning se sì l'approccio semiotico può essere applicato ad ogni contesto formativo formale informale non formale domandona io non so cosa sia il lifelong learning lo confesso lo so dire diciamo così ma non so immagino che sia dietro un sapere che non è è la formazione continua è permanente formazione permanente esatto ma io ripeto non so bene quindi non so se sto rispondendo a tono diciamo che se si tratta di una formazione continua no nel senso che come mi pare a un certo punto ha detto Tiziana nella narratività si parte dalla fine cioè quando un processo è concluso e si ricostituisce per presupposizione le fasi precedenti quindi l'idea della competenza e dell'incompetenza si determina a partire dalla sanzione tanto per essere chiari è chiaro però che il racconto è dischiuso per cui se uno se ne apre un altro però diciamo da un punto di vista strategico analitico mi sembra che le due posizioni siano differenti però ripeto non conosco bene quell'approccio di conseguenza non saprei dire bene non so se Tiziana volevi aggiungere qualcosa questa idea della formazione continua e permanente è molto utile perché va nel senso dell'apprendimento che non si ferma però va sempre visto diciamo così secondo me bisogna evitare bisognerebbe evitare le secche dello specialismo perché lo specialismo poi ti porta a vedere tutto sempre nello stesso modo e chiuderti nel tuo universo come diceva prima anche Anna Maria tu fai una domanda e ti dicono non lo so su tutto perché loro sono sfissati concentrati solo su quella cosa lì e rischiano allora di non sapere tra l'altro comunque tradurre un fenomeno nell'altro cioè di fare semplici operazioni di trascodifica che invece andrebbero fatti quindi se la formazione continua e permanente va nella direzione di un apprendimento anche diciamo fra saperi e traduttivo fra saperi è buona cosa diversamente se diventa una sorta di fossa che si scava per essere sempre più specializzati sul proprio orto non so fino a poi noi appunto noi semiologi siamo molto affezionati a questo concetto di traduzione per cui se non sappiamo fare questa questa azione di traduzione fra saperi rimaniamo chiusi nella nostra appunto unica specialità non porta non porta ecco quella quella non c'è dimensione oristica non c'è comprensione né avanzamento della ricerca che dovrebbe essere invece naturale come dicevamo prima Stefano forse vuoi aggiungere qualcosa a voce visto che ci sei no semplicemente un appunto dicevo la formazione permanente è quella cosa che strutturalmente viene imposta a dei dipendenti ed è di solito quindi una sanzione di incompetenza perenne quello che si chiama con l'eufemismo aggiornamento aggiornamento esatto è quello lì non è la consapevolezza dei propri limiti della necessità di sapere di non sapere la necessità di proseguire è un processo attivo o un processo passivo esatto no io volevo visto che non ci non mi sembra no c'è una manina alzata e invece una domanda online una manina alzata giusta è quella di Flavio che vedo Flavio Valerio Alessi prego grazie grazie dell'intervento interessantissimo io devo per una domanda cioè in gioco si sente malissimo un attimo adesso senza cuffie forse ce ne rientro adesso va molto meglio in qualche modo pone molto al centro la figura della pubblica dell'esperto l'esperto all'interno dell'arena pubblica del dibattito e viene giustamente messa in rilievo la supposta capacità dell'esperto di tradurre tra diversi domini e tra diverse competenze e il caso d'analisi che aveva portato il professor Marrone all'inizio era interessante cioè l'esperto che diceva non lo so a cosa succederà adesso io mi chiedevo quanto potrebbe essere pertinente alla discussione invece indagare le strategie semiotiche costruite a monte nei singoli campi dell'expertise cioè quando per esempio l'epidemiologo prende scusa scusi scusa tu continua no no ho sentito scusi perché ho avuto poi io rispondo continua continua scusa no la questione appunto quanto è invece perché io penso che potrebbe essere assai interessante invece tenere in considerazione le strategie tramite cui a monte si pertinentizza semioticamente il problema e quindi non la funzione soltanto pubblica dell'esperto nel dibattito le competenze supposte la funzione degli esperti contro i controesperti ma le singole strategie delle singole discipline di cui gli esperti dovrebbero farsi portavoce perché poi da qua si crea tutto il problema della discrasia che c'è quando un esperto di una determinata disciplina scientifica viene chiamato a esporsi su questioni che non riguardano la disciplina di cui è esperto quindi la questione potrebbe essere forse partiamo non soltanto dalla prospettiva pubblica dell'esperto ma dai criteri che costruiscono l'expertise a monte l'epidemiologo ha una competenza che implica determinate strategie di semiotizzazione di un determinato oggetto il birologo ha un'altra competenza e così via una volta che capiamo quali sono le strategie che stanno a monte vediamo poi a valle se ci sono appunto delle dissonanze e consonanze per vedere dal contrario semplicemente si è bloccata hai finito si era bloccata l'immagine ho finito ho finito grazie grazie poco fa quando ti ho interrotto e mi scuso stavo dicendo molto semplicemente è un po' quello che abbiamo fatto nel libro nel senso che nel libro abbiamo analizzato alcune di questi campi ovviamente non tutti appunto quello della musica quello dell'arte quello della fotografia quello della dietistica eccetera quindi era esattamente quello che ancora più indietro abbiamo iniziato a fare in quel seminario di Urbino un po' quando poco fa parlavo del caso dello studente in medicina che più va avanti più inizia a guardare il corpo della sua fidanzata in modo diverso perché sta cambiando lui acquisisce una competenza quindi sono d'accordo è chiaro che bisogna lavorare sui singoli campi quello che ci interessa però è lavorare sui singoli campi cioè ricostruire le strategie interne ad ogni come dire comparto disciplinare ogni forma di sapere e ovviamente le acquisizioni di competenza nei vari campi non sono non sono paragonabili però da un lato la sfida è proprio quella di dire che anche se non sono paragonabili cerchiamo di trovare delle forme comuni per farlo ed è quello che stiamo provando qui è vero che abbiamo insistito molto sulla figura pubblica dell'esperto che è a sua volta un altro campo potremmo dire quello è il campo del giornalismo il campo dei media quindi è uno dei campi in questione che è quello però su cui in qualche modo siamo tutti esperti siamo tutti come dire toccati e chiamati in causa comunque ripeto semioticamente la risposta da dare sarebbe di dire cerchiamo di trovare una volta analizzati i singoli campi cerchiamo di trovare delle forme comuni che non è detto che ci siano potrebbe essere anche antitetiche tra loro è chiaro che la formazione di un musicista sarà molto diversa da quella di un ingegnere e che quindi porterà anche a degli esiti passionali degli esiti pragmatici completamente degli esiti valoriali soprattutto completamente diversi però la sfida è quello di vedere se possiamo ragionare su una competenza in generale sì certamente dunque è poi anche un compito nostro diciamo per esempio ci sono dei casi interessantissimi che mostrano come la figura dell'esperto si è anche evoluta oggi e in qualche modo l'esperto non è più uno che sta chiuso nel laboratorio ma deve in qualche modo anche divulgare il sapere o comunque ci sono istanze diverse c'è il virologo che è chiuso lì in ospedale fa le sue ricerche poi c'è il virologo che invece è divulgatore burioni per esempio un caso interessantissimo tutto non solo il suo blog medical facts andrebbe andrebbe esaminato e devo dire che lì ho perso una partita perché avevo pensato di lavorare sulla preparazione della ricetta della mucchina cioè a un certo punto lui all'inizio dell'epidemia aveva dato sul suo blog che veramente per noi è uno studio un'analisi appassionante da fare la ricetta della mucchina ricchissima di elementi di indicatori passionali cioè a un certo punto potreste avere paura rispetto a quello che state facendo era una ricetta in tutto e per tutto di di mucchina fatta in casa artigianale e non solo questo ma poi tutti gli interventi che fa da Fazio per spiegare le varianti per mettere in scena questo è tutto un lavoro da fare nostro ovviamente che va nella direzione che indichi tu di una necessità in qualche modo di delimitare il campo e individuare dei tratti distintivi quindi quando è expertise e come si dimostra questa expertise io volevo dito che c'è solo una domanda relativa a riferimento a Hegel che non mi sembra neanche sottinteso ma la vera città sì per me sì sì certamente non era un riferimento era una citazione esattamente volevo riprendere un attimo l'osservazione da cui è partita adesso Tiziana ovvero che è cambiata la figura dell'esperto dello specialista anche se vogliamo nel senso che non è più semplicemente quello che fa ricerca e la comunica negli articoli e nei libri ai propri colleghi ma è in qualche maniera chiamato a prendere posizione e ad aiutare i decisori politici a prendere le decisioni giuste vedi il comitato tecnico scientifico i tavoli vari eccetera ed è una figura un po' nuova nel senso che è quello che giustifica il fatto che il giornalista poi chieda a Garattini di pronunciarsi sulla comunicazione e su come e di fare previsioni eccetera perché appunto lo scienziato specie quando si occupa di questioni che possono avere una ricaduta sociale allo scienziato viene riconosciuta una voce in capitolo e quindi sono cambiate vedi come è andata anche la faccenda del terremoto dell'Aquila del processo alla commissione grandi rischi insomma ci sono in ballo questioni che non hanno più solo a che fare con il modo in cui si costruisce una competenza e ma la si spende nell'ambito diciamo così della comunicazione scientifica e non solo e non si spende solo nella divulgazione per cui alcuni possono essere più bravi di altri ma è un fatto che ha a che fare con la relazione tra la comunità scientifica e la società nel suo complesso quindi mi sembra che questo sia un argomento che meriterebbe forse un altro studio più specializzato e più mirato diciamo così a questi campi in cui non al campo della ricerca di base solo ma ci sono appunto istituzioni di ricerche italiane che sono come l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia con cui ho diverse relazioni che hanno proprio come compito istituzionale quello di essere l'interlocutore della protezione civile nel caso succedano disastri per quanto non siano prevedibili del tutto l'operazione di monitoraggio che fanno ha comunque un risvolto e si stanno ponendo il problema della comunicazione viva Dio perché se è vero che negli anni primi anni 90 i giornalisti si chiedevano a cosa servisse la scienza della comunicazione e un presupposto di tante posizioni di tanti colleghi scienziati che tutti sanno comunicare in fondo e tutti lo sappiamo fare perché impariamo a parlare da bambini il problema che si stanno ponendo adesso in questi istituti è che bisogna affrontare professionalmente e quindi anche la comunicazione all'esterno e quindi si stanno ponendo dei problemi finalmente di come strategicamente organizzare la propria comunicazione all'esterno era solo un'osservazione un consiglio anche per un prossimo per proseguire questo interessantissimo lavoro grazie costantino sì certo sono perfettamente d'accordo la parola che mi è piaciuta di più è proprio quella che hai usato verso la fine quando hai detto strategicamente la prima cosa da far passare è proprio questo non c'è la comunicazione chiara e quella meno chiara la comunicazione riuscita e quella che non riuscita sono riuscite e non riuscite in funzione ovviamente di quella che è la strategia comunicativa da utilizzare che è la cosa più difficile da fare capire questa la sua ovvietà per certi versi è la cosa più difficile perché tutti si trovano problemi o di dire bene e dire male o di dire la verità e non dire la verità che sono due problemi che dal punto di vista nostro non esistono però non la verità malefficace citazione sì appunto però probabilmente la cosa sono un po' più complicate di come le hai ricordate perché è chiaro che come hai detto tu lo scienziato la comunità scientifica i singoli escono fuori dai laboratori per aprirsi alle istanze sociali e fare da consulenti diciamo così ai decisori giustissimo il problema è che tra i due tra i decisori e gli scienziati ci stanno i media e quindi molto spesso i nostri decisori non scelgono gli scienziati per il loro valore ma per quanto nei media tornano per fare un esempio chiaro se oggi un ministro come è successo spesso deve chiamare un esperto d'arte chiama Sgarbi non chiama cioè perché perché sta ogni giorno nei media dice ma non è un bravo ministro sì probabilmente non è bravo neanche per questo però non sto parlando dell'attuale naturalmente è un esempio un esempio assolutamente casuale dunque se non so se ci sono altri interventi domande o dubbi o critiche o critiche soprattutto è difficile criticare perché insomma siamo abbiamo quasi stiamo raggiungendo le due ore e diciamo che la 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 un po piano piano riducendo però insomma siamo sempre un certo numero non so sono soddisfatti sono soddisfatti diciamo che anche noi siamo molto soddisfatti e siamo molto contenti di avere di avervi ascoltati di avere avuto modo di confrontarci con voi e forse possiamo possiamo salutarci e darci appuntamento dunque la settimana prossima noi abbiamo un appuntamento con il proseguimento del convegno sulla manipolazione se non ricordo male giovedì pomeriggio organizzato da Alessandra Pozzo e Remo Gramigna c'è stata una prima puntata il 22 di aprile se non ricordo male la prossima ci sarà la settimana prossima e la settimana prossima c'è anche l'ultima conferenza sul colore sul della cattiva sulla bellezza organizzata in collaborazione con la fondazione Mokichi Okada giapponese e quindi ci sono ben due appuntamenti sempre che sarebbero virtualmente sarebbero fisicamente ospitati dal centro eco di via Marsana ma che saranno solo virtualmente ospitati e quindi non mi resta che ringraziare Gianfranco Tiziana avremo occasione di organizzare anche cose insieme perché io e Gianfranco dobbiamo sentirci in proposte anche con Tiziana per la faccenda delle trasmissioni di Eco De Mauro e dei paio di incontri che pensavamo di organizzare e che faremo penso in ottobre avevamo più o meno stabilito questo e grazie ancora e a risentirci presto non so se Patrizia volevi aggiungere volevi salutare sì volevo salutare Gianfranco ringraziare anche Tiziana Tiziana e Gianfranco entrambi è stato molto interessante bravi bravi tornate presto magari di persona così vogliamo andare al bar per per diventi giallino grazie per l'invito io avrete notato non ho voluto portare dei risultati di un lavoro ma come dire porre le tematiche in termini seminariali quindi mi ha fatto molto piacere discutere con voi anche di questo come ha giustamente osservato Costantino è un lavoro in fieri e lo speriamo di poterlo continuare insieme per certi versi per esempio se quel famoso brino è porto ma questo per scaramanzia non ne parliamo grazie ancora a tutti e a presto grazie a tutti ciao ciao a tutti ciao 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 Grazie.